Ataulfo, re dei Visigoti. Ataulfo 374 circa, Barcellona, 415, cognato e successore di Alarico I, fu re dei Visigoti dal 410 fino alla sua morte. Era figlio di un certo Oaglia, un nobile Visigoto, e di una donna romana di nome Basilina. Ataulfo era un uomo di grande intelligenza e capacità politica. Era anche un guerriero valoroso e un leader carismatico. Sotto la sua guida, i Visigoti si stabilirono in Gallia e fondarono il regno di Tolosa. Ataulfo era un uomo ambizioso. Voleva creare un regno Visigoto forte e indipendente, ma allo stesso tempo voleva mantenere buoni rapporti con l'impero romano. In questo senso, fu un vero innovatore. Nel 414, Ataulfo sposò Galla Placidia, sorella dell'imperatore Onorio. Questo matrimonio fu un passo importante per rafforzare i rapporti tra Visigoti e romani. Ataulfo fu reilluminato. Promosse la cultura e l'arte Visigote e cercò di conciliare le tradizioni gotiche con la cultura romana. La morte di Ataulfo, avvenuta nel 415, fu una grande perdita per i Visigoti. Il suo regno fu breve, ma fu un periodo di grande cambiamento e progresso per il suo popolo. La conquista della Gallia. Dopo la morte di Alarico, Ataulfo guidò i Visigoti fuori dall'Italia e in Gallia. Nel 412, i Visigoti sconfissero le truppe romane a Narbona e si stabilirono nella valle del Rodano. Ataulfo voleva creare un regno visigoto stabile in Gallia. Per questo motivo, cercò di mantenere buoni rapporti con l'impero romano. Nel 414, sposò Galla Placidia, sorella dell'imperatore Onorio. Questo matrimonio fu un passo importante per rafforzare i rapporti tra Visigoti e romani. Ataulfo governò la Gallia per tre anni. Durante questo periodo, il regno visigoto si espanse e prosperò. Ataulfo promosse la cultura e l'arte visigote e cercò di conciliare le tradizioni gotiche con la cultura romana. La morte di Ataulfo. Ataulfo fu assassinato nel 415 da un gruppo di Visigoti dissidenti. La sua morte fu una grande perdita per i Visigoti. Il suo regno fu breve, ma fu un periodo di grande cambiamento e progresso per il suo popolo. L'eredità di Ataulfo. Ataulfo è considerato uno dei più importanti re Visigoti. Sotto la sua guida, i Visigoti si stabilirono in Gallia e fondarono il regno di Tolosa. Ataulfo fu un uomo ambizioso e illuminato. Voleva creare un regno visigoto forte e indipendente, ma allo stesso tempo voleva mantenere buoni rapporti con l'impero romano. L'eredità di Ataulfo è ancora oggi evidente. Il regno di Tolosa, fondato da lui, durò per più di due secoli. Ataulfo fu anche un importante mediatore tra Visigoti e romani. Il suo matrimonio con Galla Placidia contribuì a migliorare i rapporti tra i due popoli. Ataulfo è un personaggio complesso e affascinante. Era un uomo di grandi capacità e ambizioni. La sua breve vita fu caratterizzata da grandi successi, ma anche da tragiche perdite. Grazie a tutti.